Questa seconda settimana di Repliche sta andando benissimo, lo spettacolo è molto divertente, molto gradito dal pubblico. Il pubblico soprattutto apprezza questa versione un po' cartoon dello spettacolo, con questi personaggi molto sopra le righe, però al tempo stesso capaci di sentimenti. Siamo contenti di stare qua in questa location bellissima, vi invitiamo a vedere lo spettacolo, venite, venite, riempite il teatro, fateci felici.